pronti allora torniamo dove stavamo prima avevamo visto che qui sotto c'era la presa eccola qua si mi sa che era questa pure quella che stava nella zona della music ah si attacca così senza cavo attenzione la turbina parte di prepotenza senti il sound madonna mia ma si aspira tutto aspetta un po' le cattiveria anche quelle staccamo tutto no quelle no vabbè ce l'abbiamo provato signori inquadri si lega pure la parete piano piano luigi aspetta è a sto punto signori che fa non provi e niente stiamo a distruggere l'hotel con quale violenza poi e poi togliamo pure sti pezzi mi sto spiziando a portarmi dietro tutto grande luigi grande luigi grande luigi vabbè abbiamo devastato l'albergo è giusto così a posto così luigi siamo sicuri c'è un altro pezzettino lì se vuoi eh vabbè immagino possa abbastare no fin dove possiamo arrivare scusa eh no fino a qua ok va bene può bastare ma me posso staccare ah indietro ok madonna abbiamo fatto dei danni signori ehm ok in realtà c'è anche questa indicazione qua grande grande così là c'è il tubo che abbiamo aperto di qua che esce là dietro quindi mandiamo gommi luigi eccolo là certo che gommi luigi quando esce da dai tubi fa un sound un po' inquietante eh lui ma non gli aspira sti ringotti vabbè aspira tutto il resto se vuoi spam niente c'è dell'altro eventualmente apri la cassa dai a posto andiamo andiamo damos oddio giuri dipende se hai se amazon prime student anche se l'abbonamento ti dura tre mesi puoi abbonarti qui a twitch una volta sola se è l'abbonamento student sto coso eh perché c'era non so se ci avete fatto caso ma là sopra c'era la la gemma quindi ci doveva sta l'inghippo ok noi il timone già l'avevamo fatto girare prima e no se avete quello annuale no potete abbonarvi tranquillamente con il il prime se non riuscite da io e tramite l'applicazione di ios che può essere che ogni tanto quella lo fa tramite i bounty come cazzo si chiamano no guarda sti bastardide maledetti sficcionati potete usare il browser tramite safari magari da quello probabilmente ve lo fa fare senza problemi io scasso tutto signore che non si sa mai saluto a chi va un saluto a chi va ok grazie mille sir dario grazie per il quinto mese grazie di cuore grazie di cuore buonasera buonasera è la ma non si è scassata ah si boom boom non so se serve a qualcosa posso lanciarle oltre la cascata magari se pia ma cascata no vabbè non c'è immagino niente aspetta ogni tanto diamo un'occhiadina però eh se no eh provate perché di solito tramite eos c'è il fatto che vi fa acquistare i token i token e sì su ios ci sono i token quindi anche se avete il amazon prime mi sa che non so se ve lo conta come un token o no nel dubbio come detto in quel caso magari fate l'accesso tramite il browser quindi tramite safari e grazie mille a chi lo voglia fare quindi tutti sti magheggi per per subarsi al canale io naturalmente vi ringrazio di cuore ragazzi vi ringrazio di cuore c'è nient'altro apparentemente no proseguiamo allora proseguiamo grazie turi grazie per il secondo mese di sub grazie a turi per l'arre sub grazie mille tac sbammete vabbè per due spicci no aspetta un attimo di qua di qua e là occhio a capo ah però giustamente siamo nella sabbia quindi come il livello delle delle camere egizie anche qui possiamo assorbire la sabbia per trovare magari qualcosa di interessante apparentemente no però va bene uguale proviamo vai con la noce di cocco sbam non c'è niente un cuore che prendiamo una perla una perla e aspetta che scassiamo questo baracchino allora prima fatemi vedere la la ci si può posso lanciarti della sabbia eventualmente facciamo un ponticello si può no no mi sa di noi no vabbè si sa mai speriamo anche qui ci dovesse stare qualcosa di utile apparentemente no no vabbè cioè siamo aspirati alla spiaggia guarda che figata si vede il veliero è lontananza e lo sfondo che giustamente è un muro qua c'è un ancora che non serve a niente e la suona la campana va che fa chiama il veliero che figata occhio occhio eh mi sembra strano Daniel non è che già probabilmente o hai attivato un altro abbonamento se no magari sei un attimo impallato il sistema magari riprova più avanti nei prossimi giorni non saprei perché di solito funziona c'è l'altro todino signori c'è l'altro todino aia aia non è una buona cosa si questo è quello del è che già c'è la boss fight non abbiamo fatto niente aspetta ci stanno merda ah mi lanciano i barili esplosivi quelli là sopra aspetta un attimo occhio no aspetta lo devo lanciare a lui immagino si grande aspetta aspetta posso vai no e niente si è dato aspetta aspettate un attimo come ca lancialo là no eh lancialo là aia madonna ah si deve aprire la bocca per funzionare come cosa ok aspetta sta esplodendo quello lancialo madonna mia i rischi dai è così ok adesso ah c'ha la aspetta c'ha la maschera già li riesco a togliere no come faccio aia porca mignota ma che cazzo te ridi eh ma c'ha la la maschera un attimo aspetta vai vinci corri aspetta grande dobbiamo aspettare che ci attacca ok e due e tre e quattro posso lanciargli questo merda ah se riparte dai aspetta aspetta cazzo donna mia basta aspetta vieni qua no ho avuto un po' di culo molto bene eh devo aspettare che apre la bocca per venirmi ad ammazzare male no no porca vabbè ho capito ma gliel'ha fatto rimbalzare in testa non vale leva i cuori i cuori i cuori dammi il cuore dammi il cuore madonna mia i rischi signori allora come prima aspettiamo l'attacco non felino in questo caso ma l'attacco dello squalo figlio di perca la puttana però eh ma non li posso tirare sto cazzo di pesce palla no ma vaffanculo Luigi cazzo muoviti no vai mo sflescialo eh però ma stiamo morendo malissimo se non riguadagniamo almeno un altro cuore niente qua è tosta perché un'altra volta che ci becca siamo fottuti maledizione grazie Emanuele grazie per i 15 mesi aspetta il cuore il cuore il cuore i cuori no dove sto ah aspetta ma come ho preso aspetta andate a cagare là dovevamo usare quello perché stava in piedi prima ha funzionato come cosa aspetta 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 però quando esplodono sti cosi vai il cuore il cuore il cuore il cuore le du nonna mi esploso in faccia e niente il cuore no eh no non ce la farò mai a prendere il cuore aspetta dobbiamo prendere quello penso madonna che culo oh però mica è semplice come cosa mo si sta pure a muovere quella merda di cosa aspetta un attimo qua ma come 10 ma se lo buttalo un cuore dai gli ade cuore no quello lascialo che sta per esplodere lancia via il cuore no gli ha rimbalzato sul dente vai no guarda che chiude la bocca quel bastardo nel momento meno opportuno porca mignotta aspetta il cuore il cuore vieni qua vieni qua mi sa che è la stessa cosa di prima o no eh si allora aspetta no no madonna mia i rischi eh vabbè come faccio devo aspettare sempre che mi attacca lui eh non lo pio scusa scusi mi da l'occhio ah e devo aspettare sempre questa mossa allora e pensavo non la faceva più momento allora quando fa così ok lo saltiamo e va bene devo aspettare che fa l'attacco felpato questo no quell'altro non lo fa adesso la ok fai l'attacco quello giusto che culo mi sono sfilato per un pelo dai bastonalo bastonalo male dai è così arrivo eh ole oh mo si beh il covo dei pirati è stato piuttosto corto anche se effettivamente poi è ricollegato al fatto che siamo dovuti andare a riprendere il toddino eccetera grazie mille Claudio grazie per il quinto mese grazie per il quinto mese eh si c'è il prime student se volete potete approfittarne però vi da una settimana di una settimana una sola sub e guarda giurikiki non mi è arrivato il popappino però puoi ricondividere la sub perché hai la testolina di Arturo a fianco al Nick quindi si sei subato o subata correggimi se sbaglio se se un subato o un subata e quindi probabilmente devi ricondividere la sub non sempre esce in automatico intanto ti ringrazio grazie mille fammi sap se è un benvenuto o un benvenuta tra i subscribers per ricondividere la sub di solito si fa dalla ha lisciato palesemente però va bene dalla matitina si adesso andiamo alle monetine la c'è anche il toad però ok ah e dove stavamo prima e dobbiamo vedere come arrivarci aspetta posso scassare anche questo no ok vabbè ah subati coppia sportiveggiante meglio ancora meglio ancora allora benvenuti benvenuti si perché se non esce il pop up è possibile che tra le impostazioni non avete la condivisione della sub perché di base twitch mi sa che la mette in privata come cosa perché magari non vuole che esca il pop up quindi dovete mettere la possibilità di far uscire il pop up oppure potete ricondividere la sub cliccando sulla matitina quella sopra la chat mi sa io ce l'ho sopra la chat o sotto una qualche parte e vi vi fa uscire il pop up così perché se no se non esce il pop up spesso magari qualcuna me la perdo durante la live usate il pop up usate il pop up sto a scassa tutto signori perché spero di trovare cose interessanti ma abbiamo trovato cibarie questo possiamo usarlo ah dai aspetta no non scomparire maledetto sacco sacco di oro aspetta quello sta scomparendo dai è così sacco di soldi sacco di soldi aspetta che poi prendiamo anche l'altro doddino che lo recuperiamo e la si si tratta di spicci e cibari cosa evitabilissima però ci stiamo c'è nient'altro qua a parte il toddino sembra di no vai toddino venga con noi questo dovrebbe essere l'ultimo toddino il terzo ed ultimo non lo so facciamo un altro pochino un altro quarto d'ora venti minuti namo toddino ben fatto luigi hai salvato un altro todd e come sempre sarebbe meglio se il todd se ne stesse qui al laboratorio come finchè tutto non sarà tornato alla normalità anche se effettivamente lui todd li usa anche per andare in giro a fare altre cose come abbiamo visto comunque perché non lo porti all'ascensore arrivo arrivo namo qua non c'è nient'altro no vabbè è finita la nave andiamo vieni toddino mi segua mi segua madonna toddino i toddini sono hanno lo spirito suicida o sbaglio qui abbiamo ma sto baracchetto e togli la todd e dai madonna vabbè niente il pesce palla rimane là e il toddino rimane impilato al pesce palla buonasire buonasire meglio buonanotte allora dovrebbe essere da quest'altro lato no guarda sti figli di puttana aia aia guarda sti stronzi di serpenti vaffanculo come faccio ad andare dalla mi sa che indicava da quest'altro lato sbaglio toddino dica aspetta va da lei e no non c'è la no e non lo so allora vabbè sembrava la mappa che ci portasse da quel lato ma apparentemente no anche il toddino è sparato in verticale quindi probabilmente non si va da quel lato e vabbè torniamo all'ascensore riconsegniamo il toddino e vediamo se magari ci facciamo l'altro masso oddio sai che non lo so aspetta un attimo proviamo non ci ho fatto caso eh no l'altro Luigi non passa attraverso le cose solide diciamo eh no però sta di lato no non ci riesco ad arrivare là no gommi Luigi non se passa qua no ci guarderemo ci guarderemo aspetta ma non penso neanche di poter fare la salitella con perché avete visto che dava aspetta proviamo no però vedi non te la fa fare adesso si è fatto apposta ad oddio però ti devi togliere dalle palle che cos'è vabbè ci guarderemo ci guarderemo intanto adesso riportiamo sto baracchino seguimi toddino prima che ti lancio da qualche parte che a questi gli piace pure comunque ma non vorrei dire niente ma ai toddini piace essere lanciato dove è cioè no qua non ci sono andato prima o sbaglio merda aspetta è qua che devo usare questo ok ole guarda come festeggia pure il toddino e dai togliti perché allora aspetta fammi lanciare il toddino là che poi scusate qua dietro ci sono anche degli altri posso lanciare il toddino prendi i soldi toddino bravissimo grande grande toddino eh ogni tanto danno pure una mano dai dove si va di qua aspetta non trovo la porta e ci stiamo ah no stava testa di minchia stava sopra scusate scusi toddino ci eravamo impallati un po' prima va bene damose damose con il toddino rimandiamolo a al laboratorio bye bye arrivederci eh no ma non c'era la strada era bloccata eh Rebu c'è stato un piccolo imprevisto ma non c'è di che preoccuparsi assolutamente cattureremo Luigi al più presto avrei bisogno solo di un po' più di tempo eh questa è quella che c'è stata Luigi e la principessa che sono quelli che mancano se li porta Rebu se ne sta a frega lui sì non si fida di lei probabilmente cioè dell'astio abbiamo visto anche ermicio malefico pronti hai trovato tutti i todd ora mancano solo la principessa peach e mario chissà dove li tengono prigionieri comunque ce l'abbiamo quasi fatta Luigi ce l'abbiamo vabbè oddio lui ci ha dato delle una mano con le migliorie all'aspirapolvere ci sta ci sta come cosa va bene io direi di farci mo vediamo ci facciamo ci iniziamo a fare un altro livello se riusciamo beh dipende se ti piacciono i giochi che ci sono sì centro fitness andiamo al centro fitness signori Mario 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 Mario